Buonasera a tutti voi, bentrovate all'edizione serale del nostro telegiornale. Circa mille persone al giorno saranno in transito anche nei prossimi giorni. Dalla nostra regione la giunta regionale garantisce l'impegno nell'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga. Continua il costante flusso dei profughi in fuga dal conflitto. Ai valichi di Tarviso e Fernetti si stima un transito di circa mille persone al giorno, donne e bambini, nella maggior parte dei casi diretti da parenti e amici. Un numero in arrivo che potrebbe confermarsi anche nei prossimi giorni. E così la giunta regionale e il governatore Massimo Niano Fedriga garantiscono l'impegno della regione a sostenere le popolazioni ucraine nell'attività di accoglienza con tutte le iniziative possibili. A dirlo la vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, nessuno avrebbe mai immaginato, aggiunto, di dover vivere ciò che stiamo vivendo alle porte dell'Europa. Mai, come in questi giorni, ognuno di noi è chiamato a fare qualsiasi gesto possibile per consentire il sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, sperando che il buonsenso e la pace ritornino e che la capacità del dialogo riesca a ricostruire delle relazioni e a porre fine al conflitto. Immobili sfitti, sede di associazioni e anche palestra ai sindaci del Friuli Venezia Giulia, viene chiesto di mettere a disposizione qualsiasi tipo di struttura per fare fronte all'accoglienza. Il Friuli Venezia Giulia si prepara a far fronte all'emergenza profughi ucraini. Se un numero certo dei flussi attesi per i prossimi giorni non è stato ancora stimato, quello che è certo è che gli arrivi saranno importanti. Così ai sindaci per l'accoglienza è stato chiesto di reperire tutti gli immobili disponibili. In questi giorni in particolare io ho partecipato alla riunione con la prefettura di Trieste e tutti gli altri prefetti, l'amministrazione regionale. L'idea che abbiamo come ANCI è quella di mettere a disposizione tutto il coordinamento che possiamo fare, quindi raccogliendo i dati che fossero necessari sia in termini di disponibilità di locali che in termini di generi di prima necessità, ma anche per dare informazioni di prima mano in maniera veloce e diretta a tutti i sindaci qualora ci fosse la necessità proprio per coordinare al meglio, come dicevo prima, le varie attività. Tutti i comuni si sono proprio messi a disposizione, chi perché magari ha qualche alloggio, quelli ad esempio sociali, quelli delle emergenze, chi magari dice io metto a disposizione dei locali che magari di solito sono utilizzati dalle associazioni o magari addirittura qualche palestra, qualche struttura di questo genere, per cui adesso si tratta semplicemente di mettere a regime, di mettere a fattor comune al meglio tutte queste risorse che vanno proprio ad aiutare queste persone che sono in grande difficoltà. E da oggi nel mercato coperto di Udine c'è la possibilità per i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti della rete Campagna Amica da inviare in Ucraina. Donne la tua spesa per il popolo ucraino, ottima l'adesione oggi ma c'è ancora la possibilità di donare. Oggi è solo la prima giornata in cui abbiamo dato inizio a questa importante iniziativa solidale. Ovviamente in tutti i giorni di apertura del mercato coperto sarà possibile donare ulteriori generi alimentari. Il nostro mercato coperto è aperto il martedì dalle 3 alle 7, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 13 e appunto sarà possibile acquistare inizialmente generi alimentari a lunga conservazione e poi man mano che vedremo l'evolvere della situazione vedremo un po' di calibrare i termini dell'iniziativa e speriamo appunto di poter essere utili a questa causa. Com'è andata l'adesione? Benissimo, vedo che la gente, i clienti hanno aderito e sono molto, almeno vedendo dalle casse, vedo che hanno aderito molto bene a questa iniziativa. I prodotti che vanno per la maggiore sono quelli a lunga scadenza? Sì, quello sì. Il viaggio è molto lungo quindi non si può con le verdure ma queste cose insomma vanno bene. E sono in molti quelli che hanno aderito questa mattina all'iniziativa del Comune di Udine in Piazzetta Belloni per raccogliere cibo, ciotole, guinzagli e tutto quello che serve per gli animali portati in salvo dall'Ucraina. La raccolta proseguirà nella sede della Nagra Feccanina in via Stringer 12 da lunedì e venerdì dalle 11 alle 12.15 e il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16.45. Le industrie alimentari della regione sono a caccia di materie prime per poter continuare la produzione anche tra queste di farine. In Friuli Venezia Giulia, come su tutto il territorio nazionale, alcune materie prime utilizzate dall'industria alimentare cominciano a scarseggiare e oltre a essere difficili da reperire sono vendute a prezzi fuori mercato. La situazione sta spiazzando le aziende che verso la fine del 2021 avevano cominciato a riorganizzarsi per contenere i costi energetici, rivedendo turni di lavoro e lasciando a casa personale non stabilizzato. È il segretario della Flai CGL Alessandro Zanotto a spiegare la situazione traendo spunto dal settore dolciario per il quale mancano farine, olio di girasole, glassa, tutti ingredienti, afferma Zanotto, che quando si trovano hanno prezzi spaventosi e talvolta le industrie sono costrette a ricorrere a surrogati. Se da una parte il segretario della Flai CGL regionale punta al coinvolgimento di tutta la filiera per ragionare su strategie che consentano di salvaguardare i posti di lavoro, dall'altra il direttore regionale di Coldiretti Cesare Magalini rilancia la necessità di un incremento delle produzioni locali. Le aree su cui coltivare cereali e mais sono sufficienti sia per il fabbisogno che per implementare le scorte, afferma Magalini, consentendo quindi di assorbire più facilmente il contracolpo che deriva dall'incremento dei prezzi dovuto in questo momento anche alla situazione ucraina. Magalini suggerisce di procedere con le semine di mais e soio per aumentare le scorte tattiche senza aspettare che le tensioni mettano il mondo produttivo sotto scacco. I dati della pandemia con 719 nuovi contagi che sono emersi oggi tra test molecolari e antigenici in totale quasi 11.000. Continua il calo delle ospedalizzazioni in terapia intensiva a 12 pazienti, 150 quelli in altri reparti. Si registra il decesso di un uomo di 86 anni di San Vito al tagliamento. Indagini dei carabinieri in corso per risalire ai due rapinatori che ieri sera hanno aggredito un uomo e la compagna in via Montecengio a Trieste verso le 19.30 quando la coppia stava rientrando a casa ed è stata bloccata da due rapinatori che erano in attesa del loro arrivo. Hanno intimato all'uomo di consegnare l'orologio e poi hanno esploso due colpi con una scacciacani. La vittima però ha fatto resistenza ed è stata colpita alla testa con il calcio dell'arma. I due sono riusciti a sfilare l'orologio di valore dal polso dell'uomo e sono fuggiti. La coppia è stata accompagnata in ospedale per l'uomo 14 giorni di prognosi. La compagna sotto sciocca è stata assistita dal personale sanitario. È stato ritrovato in stato confusionale un ragazzo disperso nel medio Friuli poco dopo le 12 di oggi. Era stata attivata la macchina dei soccorsi e le ricerche hanno battuto a tappeto la zona tra Beano e San Lorenzo nel comune di Codroipo con i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Codroipo e carabinieri della stazione locale. È intervenuto anche un elicottero Drago 81 dal reparto di Venezia. Le ricerche hanno quindi permesso in breve tempo di ritrovare il giovane illeso ma appunto in stato confusionale ai bordi di un boschetto nei pressi della ferrovia. È davvero difficile credere che non ci fosse la volontà di uccidere le leggi e le decisioni dell'autorità giudiziaria si rispettano ma lo sconforto per l'approssimarsi di una sentenza di assoluzione per incapacità mentale nei confronti di chi ha assassinato due poliziotti italiani è immenso. Lo afferma in una nota Walter Mazzetti, segretario generale dell'FSP Polizia, a proposito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Trieste nei confronti di Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato di aver ucciso i poliziotti Rotta e De Menego nel corso della sparatoria avvenuta in questura a Trieste il 4 ottobre del 2019. Torniamo a Udine dove è stata presentata una bicicletta speciale. È una nuova iniziativa che il Comune ha voluto realizzare per mettere a disposizione le persone che hanno difficoltà a muoversi e questo è un mezzo per poter visitare la città di Udine molto più rapidamente e essere accompagnati da un familiare, da un amico. Questo VeloVux verrà posizionato in piazza Primo Maggio nel parcheggio e chi arriverà in città e vorrà girare la città in maniera assistita con questo mezzo potrà richiederlo, verrà messo a disposizione e quindi si potrà girare a Udine, ripeto, con questa massima attenzione anche nei confronti delle persone che hanno difficoltà nel muoversi. È stata una piacevole esperienza, una piacevole sorpresa. Non mi aspettavo che fosse così maneggevole, così facile da utilizzare e soprattutto facile da utilizzare in strade non unisce come quella insomma di piazza della libertà. Devo dire che è un mezzo molto valido, ammortizzato e che secondo me darà delle grandi soddisfazioni a chi come me è portatore di disabilità, insomma avrà la possibilità di vedere, di visitare la città attraverso questo mezzo. E restando a Udine un albero di gelso è stato piantato oggi nel Parco della Rimembranza in memoria di Giovanni Palatucci, questore regente di Fiume, morto a 36 anni nel campo di Serminio di Dachau nel febbraio del 45, iniziativa promossa da Questura e Comune in occasione della giornata dei giusti dell'umanità. A Monfalcone il sindaco uscente Anna Maria Cisinta ha sciolto le riserve e questa mattina ha ufficializzato la sua ricandidatura alla presenza dei segretari regionali di tutto il centro-destra, Lega, Progetto FWG, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi per l'Italia sosterranno la candidata. Aperte a Casarsa della delizia le celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pasolini. Un segno indelebile è quello che Pasolini ha lasciato a Casarsa. Oggi il compianto poeta e regista avrebbe compiuto cent'anni e proprio per questo la comunità casarsese ha voluto dedicargli una serie di iniziative affinché la sua memoria resti viva. Vogliamo proprio riportare qui a Casarsa tutta la sua vitalità, la sua freschezza, il calendario degli eventi che abbiamo pensato è proprio ispirato a questo. Iniziamo, io credo nel migliore dei modi, a riportare Pierpaolo Pasolini il suo messaggio, la sua vitalità qua a Casarsa. A Pasolini è stata intitolata la nuova biblioteca civica che da 11 febbraio si è trasferita in un'ala di Palazzo Burovici, già sette del municipio. Successivamente è stata la volta della scoperta dei rinnovati spazi all'interno del centro studi che hanno voluto esaltare vitalità e freschezza artistica di Pasolini stesso. Senz'altro Pierpaolo Pasolini ha avuto questo riconoscimento da parte anche del centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa per quanto riguarda lo studio, la ricerca, la divulgazione di quella che è stata la sua importantissima attività negli anni friulani, gli anni in cui è vissuto a Casarsa, in cui a Casarsa ha scritto poesia, ha dipinto e sono proprio questi due settori i principali che abbiamo voluto evidenziare con il riallestimento di Casa Colussi. Ho visto una squadra che ha voluto vincere, che ha sofferto per vincere, che non si è mai accontentata, poi come dicevo poc'anzi le partite sono strane, nel senso che le vinci, non le vinci, le pareggi, quello è il calcio, però l'atteggiamento e la mentalità si chiama apposta mentalità vincente ci deve essere sempre e noi lavoriamo per quello. Quello che ho visto nei ragazzi è la faccia di gente che vuol vincere le partite, non partecipare. Poi ti ripeto, siamo consapevoli di chi siamo ma non ci accontentiamo e quindi fino alla fine vogliamo un massimo. E per stasera ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.